Dopo circa tre mesi, Renitente al sentire e a cura di VB, l'esperienza di quattro anni con il punto F fu molto diversa da quella del cerchio d'oro. Anche questa scuola giunse in ambito evolvenza quando era agli inizi. Per favorire il suo avvio stemmo per ore in sette persone al buio e in catena. Dopo circa tre mesi, udimmo che il mezzo o strumento emetteva qualche parola a bassissima voce. Io avvicinavo l'orecchio alla sua bocca e ripetevo per i presenti ad alta voce le parole che riuscivo a comprendere. Erano frasi che col tempo aumentavano nel volume di emissione, ma non aggiungevano niente agli insegnamenti già dati. Poi il punto F crebbe anche nella profondità delle risposte, che si completavano e ampliavano quando le stesse domande erano fatte a distanza di tempo. Le guide che si avvicendavano nella scuola ci raccomandavano infatti di confrontare le risposte nel tempo per dimostrare come la maturità della trans e l'omogeneità dei partecipanti condizionassero la qualità delle risposte. La qualità dipendeva quindi dalla capacità di creazione e percezione della scuola nel suo insieme. Se accettavo la progressione qualitativa delle risposte, conservavo però dei dubbi sul fatto che rispondere fossero dell'entità e non l'inconscio della medium, e così dimostravo ancora una volta la mia renitenza al sentire, l'incapacità cioè di intuire la grandezza di un insieme. Oggi, dopo una lunga pausa, il punto F eroga un insegnamento chiamato meditazioni terapeutiche, per cui alcuni partecipanti si riuniscono periodicamente per inviare energie a malati lontani. Alcune volte i malati sono consapevoli di questo aiuto a distanza, ma il più delle volte ne sono inconsapevoli secondo il desiderio dei loro cari. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.